Pablo e Ciauren, io sono un tuo fan da sempre, da 40 anni, quasi 40 anni che ci conosciamo, ma un po' prima io ho visto per la prima volta un tuo disegno, e l'ho visto questo disegno su una rivista d'arte che si chiamava e si chiama Bolaffi Arte, dove veniva regalata una serigrafia tirata credo in 5.000 copie per gli appassionati di questa rivista, dove c'era un tuo quadro fatto di quadratini all'epoca, credo che tu fossi giovanissimo quando hai fatto questa cosa, che mi ha molto colpito, poi piano piano ho scoperto e associato il tuo nome a quello che stava succedendo sui giornali che leggevo, c'era un giornale che si chiamava Lotta Continua, dove c'era un supplemento che era l'avventurista, e in quell'avventurista l'unico disegnatore che mi interessava eri tu che facevi delle cose che erano fuori da ogni, diciamo, ordine politico anche, c'era una libertà proprio creativa che mi aveva sempre sorpreso, poi ho cercato un numero di telefono, ti ho chiamato, sono venuti e ci siamo incontrati. Mi sa che hai chiamato proprio Lotta Continua, perché io non ci stavo mai a casa. Ho chiamato Lotta Continua, e da lì mi hanno dato un tuo recapito, insomma poi ci siamo conosciuti e dall'epoca non è mai cambiato il mio pensiero principale, e c'è che per me tu sei il mio pittore preferito, prima cosa, seconda cosa, sei l'unico pittore che ha vissuto la propria arte senza nessuna barriera conformista, diciamo, della cultura, quella che impone proprio la cultura ufficiale, o i critici d'arte, o quello che ti pare, l'hai vissuto in totale libertà, per cui hai potuto vivere ed essere insieme, ovviamente sempre con la stessa base pittorica, di essere un pittore che apriva al fumetto per la prima volta, che apriva all'illustrazione in maniera così diversa, che viveva la pittura, la scrittura come se fosse un pittore, insomma veramente di un eclettismo che ha toccato tutti i campi possibili e immaginabili. Quella tua nascita, quei quadratini, come sono nati nella tua testa? È finito, perché hai già detto Vincenzo. Quella cosa che tu hai visto è praticamente la prima cosa che io ho fatto, quindi, cioè nel senso che il primo articolo che fu fatto su di me, io non avevo ancora fatto niente, e quindi praticamente il tuo inizio è il mio inizio, cioè il tuo inizio con le mie cose e anche il mio inizio con l'essere pubblico, insomma con essere sulla stampa o comunque visibile anche da altri. Questi quadratini nascono, quello è il primo quadratino che viene pubblicato, quindi tu hai visto il primo quadratino, non è il primo quadratino fatto ma è il primo pubblicato. Questi quadratini nascono perché io andavo a scuola, non avrei mai voluto fare il pittore o comunque non avrei mai pensato di fare il pittore, che già la parola un po' mi disturba. Io avrei voluto suonare il basso, cioè suonavo ma strimpellavo e ho incontrato in una festicciola in cui suonavo il papà della padrona di casa. Questo papà della padrona di casa era un pittore, ma che io non conoscevo in quanto pittore e si chiama, si chiamava, ma si chiama perché è ancora vivente, benché ultra novantenne, Gianfranco Baruchello. Alle spalle avevo un quadro in casa di Baruchello, quando facevamo questo concertino in questa festicciola, che mi incuriosiva moltissimo, erano tutti immaginette, un po' dei trasferelli si chiamavano, che erano delle specie di immaginette che venivano usate spesso dagli architetti per arricchire i loro luci, insomma c'erano delle immaginette scritte, immaginette disegnate, immaginette ritagliate da giornali, molto piccole, però in uno spazio molto grande e quasi una sorta di, come dire, di breviario medievale in cui le immagini si sommano alle scritture, minute, eccetera. Queste immagini mi attraevano molto. Il personaggio che l'aveva fatta e che conosco in quell'occasione, non so perché, e questo ancora non lo so, perché si fosse affezionato immediatamente a me, insomma io ho passato tante serate della mia vita con lui, chiacchierando, ho anche dormito sul divano di casa sua, perché comunque la mia scuola, io andavo a liceo, Giulio Cesare, era vicino a casa sua, e insomma lui mi ha insegnato e mi ha fatto conoscere le cose che poi, ma anche il mio stesso atteggiamento rispetto al mondo dell'arte, quindi di un po' di distacco e anche di disprezzo per certi versi, me l'ha insegnato lui. Non me l'ha insegnato mio padre, che pure era pittore, famoso, molto più famoso di lui. Sebastià Matta. Sebastià, con cui non ho avuto sostanzialmente rapporti di questo genere, cioè non ho mai parlato né di quello che facevo io e sostanzialmente non ho molto sentito, anzi non ho sentito parlare da lui di quello che facevano gli altri, altri pittori, o piuttosto ho sentito sempre lui parlare di se stesso, quindi non mi è stato molto utile in quel senso, mentre invece Baruchello mi ha proprio insegnato un punto, che può essere anche sbagliato, però il suo punto di vista è un punto di vista nei confronti dell'arte. E lentamente, prima copiando, ma proprio copiando quasi pedissequamente, ma male, il suo modo di fare, e poi lentamente elaborandolo ed emancipandomi, sono nati questi quadratini che comunque risentivano fortemente, perché erano, soprattutto, poi c'era di tutto, erano dei piccoli paesaggetti, di solito deserti, mari, non paesaggi di tipo tradizionale, che risentivano, anzi, io mi ispiravo, mi ispiravo, riprendevo molto per farli ai paesaggi che tu trovi in Ten-Ten, Tin-Tin, nel fumetto Ten-Ten, e se tu vedi questa cosiddetta, si chiama linea chiara, no? Come no, certo. Dei fumetti, però, insomma, questa linea chiara, e se tu vai a vedere i Ten-Ten, insomma, nei mari del sud o in Egitto, eccetera, eccetera, ritroverai questi deserti e questo modo di procedere. C'era, quando ci siamo conosciuti, io ero, e sono rimasto permanentemente un tuo grande fan, già facevo una cosa particolare, ritagliavo i tuoi disegni e li mettevo in un album che ho sempre conservato, non ho mai buttato via questo albumone, dove conservavo sia i quadratini, sia poi l'evoluzione che c'è stata, poi sono diventati i rettangoli, poi sono diventati i disegni veri e propri, gli oggettoni che prendevano forma e vita, sono diventate tante cose, ma soprattutto poi c'è stato un momento in cui, dopo un primo momento importante che fu una mostra, la prima mostra in cui il fumetto entrava di diritto in una istituzione culturale italiana che era il Palazzo delle Esposizioni di Roma, fatta insieme ad Altan, ad Andrea Pazienza e a Pablo Echauren, che si chiamava Nuvole a Gogò, che fu un'idea che nacque insieme al Renato Nicolini, che era assessore, credo, allora alla cultura, e insieme al catalogo venne fatto da Mauro Paganelli, degli editori del Grifo, che è stato compagno di tante avventure in questo senso, e quella mostra fu importante perché, insomma, tu lasciavi il campo della pittura per entrare in un campo diverso, che era quello dell'illustrazione e del fumetto. Allora, nell'illustrazione c'ero già entrato, nel senso che quelle cose che tu ritagliavi, erano sostanzialmente, soprattutto, le copertine delle edizioni Savelli, e quindi, che io, come dire, illustravo, ma senza sentirmi poi in fondo illustratore, cioè perché applicavo esattamente lo stesso modulo che usavo per i quadri, i cosiddetti quadratini, però, diciamo, adattandoli all'argomento che doveva essere trattato. Quelle copertine che nascono per la prima volta nel 1976 mi creano, appunto, e poi arriveremo appunto alle nuvole a Gogò, mi creano il primo intoppo nel mio procedere, perché diventano abbastanza popolari all'epoca. Diventano molto popolari. Molto popolari. E il gallerista con cui io stavo, avevo in quel momento una mia mostra personale, come si dice, a Milano, in contemporanea con l'uscita della prima di quelle copertine, che è quella che diventerà la più nota, che è quindi Porcico Reale, e questo gallerista mi telefona furibondo dicendo, ma che cavolo stai facendo? Che cosa sto esponendo io qui in galleria? Sono quadri o sono illustrazioni? E nel dirmi questo mi dice, guarda che se tu intendi fare le illustrazioni con me hai chiuso, quindi sospendiamo qui. La cosa un po' mi ha agitato, ma a me se mi si mette un veto, benché io non sia particolarmente combattivo esistenzialmente, però a me si mette un veto, a me mi viene di cercare di scavalcarlo, o comunque di non farmi fermare da quello. Quindi viceversa, quindi mi decido e penso anche che lui sta sbagliando, questo gallerista, che visto che siamo, come si dice, nell'epoca, come diceva Walter Benjamin, nell'epoca dell'arte e della sua riproducibilità, se è vero che siamo in questa epoca, ma ben vengano le illustrazioni, ben vengano le riproduzioni, perché sono un modo, e si era anche in un periodo, come dire, socialmente impegnato, è un modo di arrivare più direttamente alla gente, quindi di rendere l'arte più fruibile, meno chiusa su se stessa, eccetera, eccetera, eccetera. Viceversa, quella mostra di cui tu parli, quindi che adesso io non so l'anno, ma potrebbe essere l'84, una cosa così, questa delle nuvole a gogo, quella invece mi fa fare, mi costringe a fare un altro salto che mi creerà molti danni, anche quello, rispetto al mio mondo, diciamo, di appartenenza, se lo consideriamo essere il mondo dell'arte, della pittura, eccetera, eccetera. Perché mi costringe a confrontarmi più con un mondo legato al fumetto, nuvole a gogo, la dice, lunga, no, su questo. E per quell'occasione io dico, ma che ci sto a fare in questa mostra? Salvo che Vincenzo mi vuole bene e quindi mi mette nelle sue cose, ma che ci sto a fare? Come mi giustifico poi con quelli che vengono a vedere la mostra? E mi invento una cosa, che un po' era una specie di dichiarazione rispetto proprio a questa dicotomia tra pittura e fumetto, ed è l'incontro tra il personaggio di Sergio Tofano, signor Bonaventura, e le Demoiselles d'Avignon, che è, diciamo, il quadro più celebre di Picasso, il quadro, come dire, per antonomasia cubista, il quadro che apre all'arte moderna, che apre alla modernità nell'arte, insomma, e al Novecento. Se uno guarda bene quelle signorine di Avignone, hanno dei nasi che sono del tutto simili, anzi, sono identici a quello del signor Bonaventura. Il signor Bonaventura credo che nasca nel XVI, ma le Demoiselles d'Avignon non è stato visto appena fatto, ma un po' dopo, negli anni Dieci, penso. Quindi ho anche pensato che forse Tofano, in qualche modo, o le Demoiselles stesse, o qualche studio privato da qualcosa, deve aver visto, o era l'area del Novecento, del primo Novecento, che portava a fare queste facce un po' da totem africano, eccetera, eccetera, così schematiche. E quindi non mi pare vero di farli incontrare, queste due realtà, Picasso e Tofano, perché ritengo Tofano un'espressione altissima dell'illustrazione italiana, oltre che cinema, recitazione, eccetera, e ovviamente Picasso, altrettanto per il mondo della pittura. Questo fumetto che non vedrà mai la luce, E la vedrà adesso? Purtroppo, che è molto acerbo, una mostra di Città di Castello. Si chiama proprio Sto Picasso, cioè Sto sta per Tofano e Picasso per Picasso, ovviamente. E quindi quella mostra mi costringe a questo passaggio, che voi mai avrei pensato. E lì, appunto, più che il mondo dell'arte, che nel mondo dell'arte si sa, non va a vedere questo genere di cose, venne il mondo del fumetto. E da lì nacquero i primi contatti, che sono nati con un tuo omonimo, che è Vincenzo Sparagna, ma soprattutto a te ti è venuto immediatamente in mente che io dovevo, come dire, ampliare, perché comincio a fare qualche cosettina su Frigider, credo che fossero come delle brevi di due pagine. Brevi storie, sì. Neanche storie, brevi presentazioni di artisti, De Pero, Marinetti, eccetera, così, Mirò, mi pare cose così, e tu dici, no, devi fare la... perché io, perché tutto questo adesso è frammentario, ma io avevo cominciato ad essere estremamente attratto dal futurismo, a collezionarlo, insomma, essere maniacalmente intrippato di futurismo, e tu dici, devi fare una bella e ampia biografia di Marinetti. Per questa occasione ti paghi il biglietto d'aereo, mi pago il biglietto d'aereo, e andiamo a chiudere un contratto con Milano Libri a Milano, con Furvia Serra, per Linus, per Linus, e parte a puntate questa... io comincio a lavorare, parte a puntate questa storia, quindi un mio ingresso ufficiale, diciamo nel mondo del fumetto ufficiale, Linus, cioè Caposaldo, e cominciamo a pubblicare questa storia a fumetti, premesso che, cioè anzi, post messo che, in realtà, dopo tre o quattro puntate, Linus lo censura, perché naturalmente nel prosieguo della biografia di Marinetti, come dire, interviene il periodo legato al fascismo, cioè nella vita di Marinetti... Specifichiamo che il volume a fumetti si intitolava Caffeina d'Europa, ed era la biografia di Marinetti a fumetti. Allora, dopo il blocco di Fulvia Serra, che in qualche modo censura questa cosa, la storia completa viene pubblicata appunto da te e dal Grifo, dopo, credo, un anno, un anno subito praticamente, e quella è. E rimane come uno dei primissimi esempi di letteratura disegnata, perché a me il termine graphic novel piace poco, mi piace di più quello che diceva Ugo Pratt, cioè letteratura disegnata, uno dei primissimi esempi di letteratura disegnata che vengono fatti nel nostro paese. Parliamo che, prima ancora che ci fosse la moda che sta contagiando anche il più imbecille oggi, a voglia dei disegnatori, anche il peggiore parodista di qualsiasi atto grafico, diciamo, dell'arte contemporanea, all'epoca era veramente un atto di coraggio fare una cosa di questo genere. Poi, a seguire, ci fu un'altra biografia importante che fu la biografia di Majakowski. Coeva, comunque. Coeva, fatta a fumetti anche questa, e pubblicata dalle edizioni Serraglio e di Francesco De Gregori, e a seguire ci fu un'altra opera importante dedicata ad un altro poeta, che era Dino Campana, che lo venne pubblicata sul Grifo e poi venne raccolta in volume. Anche quello è un altro, diciamo, atto di coraggio in tempi in cui era difficile pensare al fumetto in quella maniera e alla pettura che si fa fumetto in quella maniera. E non a caso, non è stato tutto questo lavoro, e anche a tanto altro intorno, ma partendo proprio da questi tre pezzi, insomma, per me importanti, che poi sostanzialmente anche i ripubblicati, non sono mai stati recepiti dal mondo del fumetto, cioè non li hanno mai considerati legati alla loro realtà. Recentemente, parlando con un cosiddetto critico del fumetto, gli ho chiesto, ma come mai? Anzi, questo critico aveva recensito una riedizione del Marinetti, una riedizione di adesso, dicendo, ah, fantastica questa cosa, un critico da sempre, ah, fantastica questa cosa, è geniale, e lo ha anche scritto. Cioè, poi farla intorno al centenario, dico, no, guarda che questa cosa è uscita 28 anni fa. Come 28 anni fa? Sì, 28 anni fa. Ma dove? No, dico, guarda, non è che è uscita underground, è uscita da Linus, e tu lo leggevi Linus. E allora, perché tu che lo leggevi, tu, uomo del mondo del fumetto, non lo hai recensito? Perché non lo hai considerato un fumetto. Cioè, l'hai considerato qualcosa di spurio, completamente, e lo hai censurato. Quindi rimaniamo te ed io a parlare di queste cose, e quelli che lo hanno letto. Ma tutto quel mondo che fa riferimento e che appunto, va bene, costruisce la storia, o la pseudo storia del fumetto in Italia, ha sempre considerato queste cose altro. Un po' come, contemporaneamente in questo periodo, il mondo della pittura, a cui comunque io facevo sempre riferimento, perché continuavo a fare mostri, eccetera, eccetera, mi ha sempre considerato poi alla fine spurio, altro, perché colluso col fumetto. Diciamo che, Edi, in anticipo rispetto ai tempi che sarebbero poi venuti un po' più, più, diciamo, liberali in questo senso, e meno con steccati, meno con barriere, nasce in questo periodo, proprio quando nasce la rivista Il Grifo, io ti chiedo di fare per questa rivista di fumetti una pagina finale, il prefinale, diciamo, che concludeva ogni numero, ti chiedo di farci una pagina ogni, e lì tu inventi uno slogan, che è il titolo anche di questa mostra, che per me è uno slogan bellissimo, pittura e fumetto, artista perfetto. Lì nasce questa idea. Ed appunto era... Beh, era quello che pensavo. Allora, nella mia vita è successo questo. Precedentemente. Io facevo questi quadratini, facevo il pittore esponendo in gallerie, anche di grande prestigio, come era appunto la galleria di Schwarz, ed ero sotto contratto da Schwarz, ho fatto mostra in tutto il mondo, a un certo punto sentivo stretta questa condizione, perché appunto politicamente pensavo che l'arte non dovesse essere una cosa chiusa su se stessa, in cui vanno solo gli addetti ai lavori, in queste gallerie dove se un pomeriggio entrano due persone, insomma, sta succedendo qualcosa, perché di solito non entra nessuno, eccetera, eccetera. E in un certo periodo della mia vita, e tu lo sai, perché è il momento in cui ci siamo conosciuti, cioè il 1977, io smetto di fare il pittore e mi impiego a lotta continua, ma a lotta continua faccio delle cose, perché il periodo lo permette, faccio delle cose anche inaspettate, per certi versi, appunto dei disegni che non hanno niente a che vedere con la politica, divento, oggi fa ridere, ma indiano metropolitano, e quindi con questo gruppo noi facciamo delle fanzine, ci divertiamo a prendere in giro la politica, eccetera, 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 eccetera. Sempre all'insegna di un'idea di portare l'arte fuori dal proprio recinto, lasciarla defluire nella vita quotidiana. Finito quel momento, e finisce abbastanza rapidamente, col 78, col sequestro Moro, con la K che si crea in Italia, ma anche rispetto a, come dire, ai ragazzi che credevano in un rinnovamento e si trovano invece catapultati in una realtà, come dire, devastante, estremamente violenta, in cui non c'era più nulla da condividere, eccetera, eccetera. Insomma, finita quella stagione, io mi trovo spiazzato, rispetto a questa, comunque, desiderio che ho sempre avuto di andare verso un'arte diffusa. La chiamata alle arti della mostra del Nuvola Go-Go mi dà questo spirale, cioè l'ipotesi di usare il fumetto come un mezzo di trasporto per proprio ritornare verso la diffusione fuori dagli steccati dell'arte. e quindi quella, anche se questo punto mi crea problemi, io ci credo ancora oggi che l'arte non possa essere chiusa in una tela sul telaio o in una performance dentro uno di questi sacrari bianchi, ma che possa defluire, stare ovunque. E quindi, pittura e fumetto artista perfetto voleva dire quello, mescoliamo tutto, non stiamo lì con la puzza sotto il naso a vedere cosa è arte e cosa non lo è. Primo non lo decidiamo noi, cosa è arte e cosa non lo è. Lo decideranno i posteri. In fondo noi oggi ammiriamo dei manufatti di altre, di civiltà antiche, eccetera, che non nascevano come opere d'arte, ma noi oggi li ammiriamo come oggetti d'arte, cioè non andiamo a bere nella coppa tal dei tali o nel cratere tal dei tali. Li ammiriamo, quindi l'arte non si sa mai effettivamente cosa sia. e quindi quello slogan lì era dire non ci sono limiti. Non ci sono limiti, ma tutto questo era nato anche prima, mi ricordo una mostra che venne fatta in un'importante galleria romana, dove lì per la prima volta si vedeva qualcosa di inedito, per, prima ancora di, diciamo, del grifo, si vedeva Topolino che entrava in un quadro di Miró, oppure in un quadro di Clé, oppure Félix Descartes che si doveva confrontare con Mondrian, entrava nei quadratini di Mondrian, c'era un, mi ricordo che ho scritto una bellissima introduzione Beniamino Placido in quell'occasione, che fu uno degli intellettuali più, diciamo, attenti e avanti, che sapeva guardare con grande libertà alle espressioni artistiche. In quello stesso periodo credo che ci sia stato un importante incontro con Calvino che cintava il tuo quadro all'inizio delle, se non sono notte, Palomar, di Palomar era, sì. Usava lo stesso, insomma, linguaggio dopo che aveva avuto da me un quadretto, insomma, sì, in qualche modo lo citava, però senza dirlo. Però c'era. Sì, c'era, c'era. E c'è, abbiamo i documenti. Ci sono i documenti di tutto questo. Però la cosa più importante è che praticamente questa cosa nasceva sempre e fondamentalmente da un ceppo pittorico, anche quando poi sei andato a fare i collagi, in cui, anche nei collagi ne entravano mescolavi, diciamo, ritagli di volantini o di libri futuristi con i personaggi del fumetto, era sempre la stessa idea. Certo. Allora, la differenza, appunto, si chiamava iconoclasta, la mostra di questi collagi. rompeva pezzi effettivi reali di libri e giornali futuristi e li metteva all'incontro con altri pezzi di giornali a fumetti, soprattutto Walt Disney. Io non sono un grande amante del fumetto, piuttosto di Walt Disney, dei pupazzetti, a me mi piacciono i pupazzetti, i colori piatti, eccetera, eccetera. Appunto, in maniera diversa, per esempio, dalla pop art. La pop art che fa, anche loro prendevano i fumetti, no? e ne facevano quadri. Però come in qualche modo la pop art dice io ti prendo la spazzatura, la cultura popolare e te la faccio entrare, no? In un museo, in un altro modo. Il mio invece era di amore verso un modo di fare, cioè, non, come dire, trascinando il fumetto nel museo, ma viceversa, questa era la mia idea, trascinando l'arte alta verso il basso, quindi l'idea di mescolamento di alto e basso nel senso di allargamento dei confini, di possibile incontro e conoscenza. In questo senso, appunto, facevo entrare Topolino in contatto con Miró, ma questo poi non è tanto poi o solo prodotto di un punto di vista, perché io da bambino, appunto, sono un bambino che si è fatto su Topolino, non sui fumetti di cowboy oppure insomma su quelli o su Mandrey, ho fatto sui pupazzetti e però vivevo in una casa in cui comunque c'erano delle riproduzioni per esempio di Miró, davvero, o di Guernica o di Matisse, il Matisse del jazz, quindi quelle cose molto a colori piatti e io sono straconvinto, ma anche lo vedevo nel mio immaginario, certe palle nere sagome rosse di Miró che si confondevano ai pantaloncini di Topolino e alle sue orecchie tonde e quindi alla fine ho dichiarato quello che comunque si era già sedimentato nel mio immaginario, che è giusto che Topolino stia accanto a Miró. Questa cosa non l'hai mai poi più abbandonata nei vari percorsi artistici che tu hai avuto anche un dono straordinario di non esserti mai fossilizzato su un tipo di espressività la tua ricerca creativa è stata sempre foriera di sorprese continue di ricerche di tentativi di il tuo talento è stato veramente esplosivo come i fuochi d'artificio insomma ti regalava sempre una sorpresa ad ogni quadro che cambiava fino alla fine fino a questi grandi quadri che fai adesso dove anche lì ispirati magari di più forse alla street art o forse a quello che i tuoi occhi diciamo impressionano i tuoi occhi oggi anche lì ancora il fumetto c'entra è sempre presente quindi non hai mai poi abbandonato l'idea del fumetto perché fa parte di quella libertà creativa che rivendi che ha pieno titolo ma dunque diciamo che allora il mondo dell'arte mi annoia moltissimo non è che quello del fumetto mi diverti non lo pratico più da credo oltre vent'anni quindi io mi annoio mentre parlo e mi sento mi annoio moltissimo quindi anche nel fare io non mi autocostringo a fare delle serie ma in fondo quando ho raggiunto quei due tre quadretti che soddisfare è una parola grossa perché non mi diverto mai ma insomma alla fine mi annoio di quello che faccio quindi ho bisogno di cambiare di trovare altri altri lidi io penso appunto che purtroppo il mondo dell'arte ma anche insomma il mondo delle arti figurative eccetera si è basato anche sul brand come immondamente si potrebbe dire oggi cioè sull'idea di produrre una cosa riconoscibile e quindi vendibile e che quindi spesso talenti creativi si lasciano come dire si addormentano in questo bisogno di replicare se stessi sperando di o vendendo se stessi vendendo i loro prodotti penso che invece come dire il fare artistico non sia un fine cioè uno non deve fare un quadro perché deve fare qualche cosa che deve essere ammirato dagli altri ma deve essere come dire uno strumento che uno usa per se ha qualcosa da dire per dire quello che intende dire sul mondo sulla realtà su se stessi e che quindi sia uno strumento più che un fine appunto e quindi il mio modo di fare è sempre stato quello che se alla fine qualcosa era stato detto avevo detto dovevo trovare un'altra lente anche che con l'età si perde o si riacquista la vista eccetera eccetera si modificano le lenti che uno usa per osservare la realtà e quindi un po' la mia noia la mia incostanza la mia fretta per certi versi e un po' bisogno di aggiustare il proprio punto di vista sulle cose alla fine ho cambiato molto spesso e anche questo mi ha fatto molto male perché appunto si pretende e si esige una costanza assoluta una una ripetitività totale perché solo in quello come dire l'eventuale fruitore riconosce a o sul divano un quadro di e vuole tutto sempre uguale a se stesso io sono in costante lo ammetto no davvero alla galleria d'arte moderna ti sono state dedicate ti è stata dedicata una mostra importantissima a Roma che è uno dei centri dell'arte più importanti del nostro paese una mostra importante in nove sale c'era tutta la tua storia quantomeno una brava curatrice aveva diciamo sviluppato tanti temi raccolto tanti temi che tu hai messo insieme ma se tu dovessi dire oggi cosa era l'elemento unificante dopo che tu stesso hai rivisto tutto insieme quello che avevi combinato e tu hai notato che non c'era un fumetto c'era solo un richiamo all'inizio di questo quadro di Balloon ma non c'era un fumetto e beh diciamo perché appunto non è necessario neanche che ci sia in assoluto nel senso che il mio modo di procedere è stato quello di essere contro questo meccanismo che vuole l'arte qualcosa di adesso non è più tanto così si chiamava contropittura si chiamava contropittura questo modo di separare i campi però anche se oggi sembra non essere così un po' lo è ancora perché il mondo dell'arte riconosce un artista cioè un fumettaro se per esempio lo ha sussunto cioè se lo ha in qualche modo già depurato dallo stare rivista se se l'è portato nei suoi ambiti se l'ha portato nel museo può riconoscerlo lo può invitare a una biennale ma non riconosce il mondo del fumetto in quanto tale che è sempre qualche cosa di altro questo per il fumetto ma per tante altre forme di espressività perché diciamo per esempio le copertine dei dischi sono un mondo un immaginario stupefacente meraviglioso dal punto di vista di mille no dal punto di vista fotografico dal punto di vista della grafica stessa dei disegni che vengono usati però voglio dire le immagini sono dappertutto specie in questa società di immagini sono sui giornali sono sulle copertine dei dischi sono al cinema il mondo del fumetto però in qualche modo per quello che si era detto prima per me è stato una specie di di obiettivo che comunque non ho in qualche modo convinto nel senso che volevamo scardinare queste separazioni tra alto e basso tra pittura e fumetto abbiamo fatto delle cose e dico uso il plurale non per il plurale maiestatis ma perché le abbiamo in parte fatte insieme tu ed io quindi anzi tu sei il mandante io sono l'esecutore assolutamente il contrario beh non sei l'esecutore sono il sollecitatore sei il mandante però il mondo del fumetto non l'ha recepito allora se il mondo della pittura o dell'arte alta tra virgolette era è tuttora chiuso e ostico a queste cose quello del fumetto non è stato da meno ma quello del fumetto è stato ancora più stupido perché ma non solo per la mia persona perché negli anni 80 c'è stato un fiorire di artisti legati a un fumetto di tipo moderno estremamente moderno pensano ai valvolinari eccetera eccetera tutto un mondo che è morto che è finito perché il mondo del fumetto non lo ha capito non lo ha saputo far proprio ma te le dirò una cosa che a me mi ha sempre stupito e mi ha confermato in questa mia sensazione che se è cieco il mondo dell'arte lo è ancora più quello del fumetto che una volta un personaggio molto cioè un vecchio signore del mondo del fumetto uno di questi che faceva anche una rivista curava festival eccetera eccetera sulla sua rivista nascente decise a cui io ho collaborato pubblicò alcune cose di Andrea Pazienza e io gli dissi ma ed era una rivista di tipo tradizionale mi disse ma già non capivo perché avesse pubblicato qualcosa di mio ma dico e come è recepito Pazienza dal tuo pubblico dal pubblico delle tue riviste e lui mi disse ma è strano 50% è d'accordo e gli piace all'altro 50% dice che non gli piace proprio perché lui aveva fatto una specie di di sondaggio di sondaggio proprio di piccolo referendum e dico ma perché non gli piace c'è perché secondo loro non sa disegnare e questo mi fece capire una cosa siccome Pazienza non c'è dubbio che è il più grande disegnatore in assoluto cioè Andrea Pazienza e tu lo sai molto meglio di me senza matita sapeva disegnare l'intreccio dei lacci di una scarpa da tennis che è una cosa che anche con la matita non ci si riesce ma forse neanche con un programma adatto del computer si riescono a disegnare come si intrecciano i lacci da scarpe da tennis se quindi metà di un pubblico diceva che non gli piaceva Pazienza perché non sapeva disegnare non è che non sapesse disegnare è che talmente era lontano dalla sua percezione che non riusciva proprio neanche più a vedere il disegno era cosa altra e quindi la ripudiava quindi allora questa nostra battaglia pittura e fumetto artista perfetto è andata persa da parte nostra e l'hanno vinto loro ma noi ce la manteniamo nel nostro come dire piccolo ricordo è in fondo nella nicchia c'è la pacchia potremmo dire io non credo che la battaglia sia stata mai persa sarà una battaglia che durerà nel tempo molto più avanti di noi due che l'abbiamo sollecitata e che comunque per quanto mi riguarda continuerò sempre a sollecitarla perché è una battaglia nella quale credo fermamente e di cui te sei stato secondo me dal mio punto di vista il pioniere unico è davvero il più coraggioso di tutti perché andavi a combattere su due fronti e non hai mai smesso di farlo perché poi la tua radice è sempre quella davvero combattente grazie grazie a te grazie a loro che ci sopportano grazie a te